Oh ragazzi, guardate cosa sto disegnando, aspettate che vi stoppa il video di Gabby Sto disegnando il ritratto di, come si chiama, di Modigliani Che è il ritratto di Jeanne Ebuterne con grande cappello Adesso vi mostro come l'ho fatto L'ho fatto così Vi piace? Tutto il colore Qui ho usato il pastello, qui ho usato il pastello, anche in tutte e due Qui ho usato il penance e le matite Tutto matite tranne questo, che è di pastello Che ho usato questi qui, questi qui di Giotto Vi dedico una buona giornata Scrivetemi nei commenti se è bello o brutto Così così E vi auguro una buona giornata, ciao!